all'arresto appunto di due soggetti alla denuncia a piede libero di una terza persona appunto ritenuti tutti e tre i presunti autori di tre rapini occorse qui nel Veneto una in provincia di Treviso, una in provincia di Padova ed un'ultima in provincia di Venezia. Riteniamo ecco i presunti autori di questi delitti in quanto sono stati trovati in circostanze di tempo e di luoghi compatibili ecco con la rapina occorsa ieri a Santa Maria di Sala. Erano appunto un terzetto che già stavamo monitorando e che abbiamo ritenuto legati a una Fiat Punto di colore bianca che era apparsa nei luoghi immediatamente limitrofi a una rapina in refrontolo ed un'altra nella provincia di Padova. Stesso modus operandi per tutti e tre le rapine? Assolutamente, abbiamo notato che ecco questo terzetto ha colpito diciamo tre rivendiche di tabacchi in orario di chiusura più o meno verso le 19 nei quali due di questi tre, uno armato di pistole e uno di un coltello appunto si facevano dare gli incassi della giornata da parte di questi esercenti commerciali. La donna invece il ruolo? La donna la riteniamo parte integrante di questo sodalizio ecco sicuramente con una responsabilità che per ora riteniamo meno forte rispetto agli altri due ma parte integrante appunto di questo gruppo. Grazie.